Per Capodanno che gli fai? Pasta, pepe e petardi. Buona! Fiamo la pasta con la buona. Deve essere scrocchiarella. Deve scrocchiare il pasta. Buona! Poi fiamo i petardi e li fiamo sudà, li fiamo sudà. E con questa pasta fiamo saltare in aria tutti quanti. Che cameraman! Mangiate un petardo, eh? E mo gli fiamo far botto. The sound of love. E mo dopo la pepe e petardi andiamo a fare una bella corsa. Ah raga, stavo a fare giochi in Vaticano e non potete capire che ho beccato. Amico mio, Francesco quello che fa il Papa è il Papa buono. Francesco è qua che gli fa un saluto all'amici miei qua. Arrivo, arrivo. Cari fratelli e cari sorelle, un abbraccio e buon anno. È buono il Papa, è buono.